Proseguono i lavori della Commissione d'inchiesta sullo scandalo Banca Monte dei Paschi di Siena, stiamo giungendo alla conclusione delle audizioni e abbiamo ascoltato il dottor Roberto Barzanti, politico di lungo corso del territorio sienese, ma anche europarlamentare per le legislature, sindaco di Siena e anche assessore regionale. Emergono da queste audizioni tre aspetti. Nuovamente il primo punto è il passaggio storico della banca da istituto pubblico, nel 1995 diventa una SPA, una banca privata a tutti gli effetti, con la creazione di due soggetti, la banca e la fondazione, che ne deteneva il 100% delle azioni e ne determinava sia il controllo che l'indirizzo della propria attività. Il secondo passaggio è quello di un controllo distribuito tra i partiti, con un sistema, tra virgolette, democratico, a un controllo monocratico distribuito tra i partiti, ma con meno persone che esercitavano questo potere. L'ultimo passaggio che è emerso da questa audizione è l'affare Anton Veneta. E' molto colpito la frase che per capire la crisi bisogna guardare molto lontano da Siena, lasciando intendere che, dichiarando che per avere piena consapevolezza dell'affare Anton Veneta bisogna guardare anche ad ambienti vicino al Banco Santander. E vi invito su internet, su Google, ad andare a ricercare questi elementi. Grazie a tutti.